eccoci qui carissimi amici eh la nuova puntata dedicata al festival internazionale dell'astrologia siamo in compagnia di Michele Pellegrini. Intanto io mi presento ancora ancora eh c'è già gente che ci conosce siamo eh stati insegnanti siamo insegnanti alla scuola eh eh di amata eh gioiale e abbiamo tenuto dei corsi quindi qualcuno già ci conosce qualcuno ha imparato a conoscerci ancora meglio lungo questo lungo il corso di del precedente festival e anche di questo eh oggi siamo di nuovo con te Michele un eh un gemelli mio conterraneo sì è vero alcuni elementi astrologici eh ti ti presento al pubblico ti ripresento ancora grazie un ehm a una formazione astrologica in astrologia giudiziaria come me appartieni alla scuola di astrologia attiva di Ciro di Cepro siamo colleghi studiato insomma stile barbolle eccetera eccetera ah e sei un docente di storia dell'arte e c'è qualcosa che ci accomuna perché io sono diplomato maestro d'arte esatto all'istituto a statale d'arte di Monopoli certo mitico tra l'altro istituto è un istituto molto importante quindi sì sapevo di questa tua formazione e poi tu hai formazione artistica in generale sei una personalità anche con un certo istrionismo una certa tendenza al un amore per lo spettacolo dai diciamolo sei anche un ballerino allora intravedo nella tua parte allora tu devi sapere che sagittario gemelli un po' si scambiano le caratteristiche sono poliedrici sono versatili io da eh ad artista tutto tondo ho fatto teatro ho fatto cinema l'unica cosa che mi manca il canto perché ho fatto eh scultura no però modellazione dell'argilla eh disegno dipingo poi ultimamente ballò anche questi insomma un artista completo un po' scapestrato cioè allora di Michele un argomento molto interessante quello di stasera anche un po' scorpionico sì eh Michelangelo e Rodin le corrispondenze segrete molto molto interessante esattamente perché a chi un po' si intende di storia dell'arte la corrispondenza tra Michelangelo e Rodin appare piuttosto ovvia diciamo così adesso intanto facciamo vedere inquadriamo chi è Augusto Rodin innanzitutto è uno scultore abbastanza noto un po' di anni fa c'era stata la polemica per l'esposizione della sua celebre porta dell'inferno presso una mostra in Vaticano e diciamo i complottisti si sono scatenati da questo punto di vista in realtà Augusto Rodin è stato uno dei più importanti scultori del periodo che noi associamo all' impressionismo lui ovviamente non era un impressionismo anche se qualcuno lo inquadra nell'impressionismo scultoreo in scultura eh però effettivamente lui è della stessa generazione degli impressionisti perché nasce nella prima metà dell'ottocento e tutta la sua opera si sviluppa nella seconda metà dell'ottocento e nei primi del novecento Rodin è una personalità anche mostriamo delle opere intanto così lo possiamo commentare meglio beh intanto Rodin è una persona eccolo qua lo vediamo negli anni dell'apice della sua carriera è un uomo un uomo energico pieno di vita sicuramente un artista di primo piano che fa fatica ad affermarsi subito infatti si afferma in età avanzata diciamo dopo i trent'anni come era comune per gli artisti di quell'epoca che incorrevano in un pubblico abituato a un altro genere e lui invece un innovatore un po' come gli impressionisti propone qualcosa di diverso la scultura di Rodin è una scultura molto fisica infatti lui ripropone ecco vi faccio vedere una delle prime opere di Rodin che diventa celebre l'età del bronzo lui ripropone il nudo il nudo soprattutto maschile compare tantissimo nella sua produzione fin da subito è questo tipo di vi faccio vedere altri punti di vista di questa scultura che è veramente molto molto particolare alta più di un metro e ottanta quindi a grandezza naturale per la quale usò come modello un ufficiale dell'esercito quindi un uomo anche con una certa prestanza fisica questa scultura che lui realizza nel 1875 è una delle prime opere di Rodin in cui esprime la sua poetica veramente prima aveva anche realizzato una maschera scultorea questa qui e questo viso di uomo dal nasorotto che è un ritratto caratterizzato molto molto caratterizzato ed è particolare perché in realtà questo 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 volto oltre a dei tratti caratteristici molto forti ha una all'aria di un frammento quasi di un frammento scultore e questa questo vivido realismo di di Rodin questa materia scultorea mossa vibrante irregolare questa esaltazione del corpo del nudo così anche potente in un'epoca tutto sommato piuttosto puritana bigotta periodo della sensualità nel guarda le forme sono delle forme molto molto sì che sanno quasi di paradiso terrestre l'età del bronzo fa pensare veramente a qualcosa di primitivo anche volendo quindi c'è veramente in Rodin un ricercare una naturalezza della della rappresentazione e soprattutto esprimere le passioni l'arte di Rodin è passionale infatti lui dice proprio che il corpo il corpo è il calco su cui si imprimono le emozioni questo è un è un concetto che Rodin esprime molto bene quindi la materia della scultura deve essere una materia che vibra come il corpo e in ogni singolo dettaglio in questa irregolarità in questa rubidità traspare tutta l'emozione che l'artista vuole trasmettere cioè in ogni singolo frammento della scultura infatti vedete che lui predilige questa materia mossa come se l'opera continuo di venire oltre al fatto che questo dà una vibrazione alle opere tale sotto l'effetto della luce da farle sembrare quasi vive quasi in movimento colte in un istante insomma questa è una il primo esordio quest'opera è proprio il primo esordio di Gauguin del 1875 e alcuni hanno ravvisato poi soprattutto nelle opere più avanzate di Rodin ma già in questa dei chiari riferimenti alla statuaria di Michelangelo di Michelangelo sì esatto perché innanzitutto il corpo maschile l'enfasi sul corpo sulla muscolatura del corpo è quel che è di tormentato di irregolare quelle superfici screziate mosse palpitanti che ricordano quelle di Michelangelo ma non solo qui riferimento è ancora più diretto perché in questa scultura che è il suo primo grande successo che susciterà anche tante polemiche tra l'altro lui cita una statua di Michelangelo presente a Louvre che è lo schiavo morente una delle statue che Michelangelo aveva scolpito per la tomba di Giulio secondo mai realizzata poi in modo diciamo mai realizzata secondo il progetto originario quindi queste statue sono rimaste poi vaganti diciamo nello studio nell'atelier di Michelangelo e poi hanno circolato in varie collezioni ecco lui si ispira esattamente a questo modello che vede a Louvre e lo rifà in controparte mentre lo schiavo di Michelangelo appare soccombente morente questa figura di Rodin appare trionfante vitale no ma al di là di questo la posa la con la costruzione della figura è speculare molto simile a quella di Michelangelo ma non è un caso questa cosa perché intanto Rodin è considerato una specie di Michelangelo moderno dalla critica proprio per questo accento sul corpo ma anche perché proprio in quegli anni questa scultura viene realizzata ora da qualche parte si dice il 75 da qualche parte il 76 insomma c'è ambiguità però proprio in quell'anno tra il 75 e 76 Rodin per poter meglio svolgere questo lavoro si reca in Italia fa un viaggio in Italia va a vedere le sculture di Michelangelo in particolare e di Donatello che indirettamente è stato un riferimento anche per Michelangelo perché Michelangelo è stato allievo di un allievo di Donatello quindi diciamo è un discendente di questa tradizione fiorentina e quindi tornato in Francia pieno con gli occhi i taccuini di pieni di appunti di schizzi e di studi delle opere di Michelangelo e avendo all'ugro un modello finito dell'opera di Michelangelo si mette al lavoro da Michelangelo lui imita non solo la composizione non solo la sensibilità ma anche questo senso di abbozzato e di non finito che in Michelangelo compare in alcune opere non finite che probabilmente Rodin ha anche visto che sono sempre della serie dei prigioni nei prigioni infatti di Michelangelo si nota proprio e sono molto famosi si nota innanzitutto come la figura venga fuori lottando quasi con la pietra o meglio lo scultore lotta con la pietra per liberare la parte si vede proprio una un'energia diversa esatto c'è proprio questa poetica no della della lotta dell'artista contro la materia però allo stesso tempo la cosa che suggestiona Rodin è quella del non finito cioè di quelle parti delle sculture di Michelangelo che appaiono forse perfino più interessanti di quelle finite agli occhi di un moderno faccio vedere per esempio questo dove la scultura è ancora grezza non rifinita e proprio in queste parti appare più vitale più mossa che in realtà Michelangelo queste le avrebbe rifinite probabilmente però è proprio questa indefinitezza che suggestiona un uomo del tempo di Rodin un uomo temporaneo alla ricerca di nuove chiavi espressive sente che in questa soluzione c'è della vita che palpita c'è proprio quel calco delle emozioni più che nell'opera finita e allora quando realizza l'età del bronzo mette insieme tutte queste cose e realizza un'opera viva palpitante energetica la scelta del materiale poi è interessante molto molto e qui addirittura lui va in opposizione rispetto a Michelangelo però pur perseguendo un fine simile perché Michelangelo lavora il marmo e pochissimo il bronzo lui al contrario lavora molto materiali come il bronzo e l'argilla per esempio Rodin perché sono materiali che si compongono quasi come la pittura per certi versi applicando il colore Rodin è stato anche pittore riflettono la luce in maniera diversa esatto e sicuramente si prestano a quel lavoro con le dita quel modellare la materia con le dita con le mani che lascia proprio l'impronta del gesto dell'artista qualcuno ha osato dire le opere di Rodin esprimono quasi l'idea che li abbia plasmati la mano di dio e che quindi si stiano prendendo vita in quell'istante questa cosa di lasciare anche in mente sì quello che dici mi fa venire in mente il mito di pigmalione non so se tu lo conosci ma raccontalo tu è il mito appunto dello scultore che fabbrica la sua di questo scultore che fabbrica questa statua e chiedendo all'attività di dare vita fondere vita nella statua viene esaudito e questo dal punto di vista psicologico sta un po a rappresentare quella che la profezia che si auto avvera sì certo il famoso effetto pigmalione certo che anche in pedagogia viene raccontato anche questo come però sì sì ma non ti paghiamo sì sì c'è un c'è un investimento c'è un un riferimento interessante da questo punto di vista è un po l'artista il sogno dell'artista è quello dello scultore soprattutto è veramente quello che questa materia prenda vita perché d'altro è in Rodin questo si sente tantissimo tant'è che diciamo in effetti proprio l'idea della scultura simbolicamente si associa quasi alla creazione di Adamo no c'è la creazione dell'essere vivente della vita quindi sì c'è c'è una c'è questo archetipo nel nel gesto scultore la mano a sinistra scusa se ti interrompo nella mano a sinistra cosa c'è cioè ti riferisci a questa no questa mano in realtà non impugna nulla è una mano chiusa a pugno vediamo se ho un dettaglio più è un gesto guarda è una mano chiusa a pugno è intenso come gesto sì sì guarda a me dà l'idea veramente di qualcuno che si sta risvegliando quasi come se stesse prendendo vita in quel momento come se l'energia vitale attraversando quasi mi dà proprio quest'idea di qualcosa di una vita trionfante e lui è un uomo estremamente vitale Rodin guarderemo anche altre opere come la porta dell'inferno il pensatore però secondo me è arrivato il momento a sto punto di svelare il tema natale di Rodin che noi grazie al formidabile lavoro fatto dai coniugi françoise e michelle goklen perché sai hanno fatto questi lavori di ricerca statistica su centinaia di migliaia di da decine di migliaia di dati e agli hanno divisi per categorie e hanno lavorato anche sui dati degli artisti e quindi c'è una bella collezione grazie al fatto pure che Napoleone avendo creato stato civile di fatto ha inaugurato la tradizione di registrare atti di nascita completi quindi archivi bellissima questa cosa bellissima chicca bellissima chicca ed eccolo qua Rodin è nato il 12 novembre del 1840 a mezzanotte a mezzogiorno chiedo scusa è scritto nell'atto di nascita a midì quindi a mezzogiorno a Parigi quindi abbiamo un'ora di nascita certo tonda che possiamo anche togliere con beneficio senza particolare valendoci del beneficio del dubbio senza particolari problemi qualche minuto insomma abbiamo uno scorpione in piena regola è qui abbiamo un artista con il sole in scorpione però attenzione perché in realtà abbiamo anche un sagittario qui perché abbiamo il sole in scorpione con l'ascendente in capricorno e questo sole vediamo che anche molto alto nel cielo con il nome che campeggia in decima casa Rodin è sempre stato a detta di molti un uomo estremamente ambizioso e non puoi essere altrimenti se decidi di perseguire senza essere ricco la scultura a modo tuo fuori dalle accademie dopo che sei stato espulso da tutte le scuole le accademie d'arte dopo i trent'anni cioè essendo arrivato a oltre trent'anni senza particolari successi e vivendo in condizioni anche di difficoltà economica e però tuttavia senti che hai veramente qualcosa da dire quindi Rodin da questo punto di vista è tanto ascendente capricorno e tanto sole culminante non in decima però culminante lui si pone anche come una figura di riferimento da questo punto di vista e vediamo che in decima casa abbiamo giove e se fosse chiaramente Rodin nato qualche minuto prima anche cinque dieci minuti prima questo sole sarebbe perfettamente al medio cielo in cuspide alla decima e la nona casa che tra l'altro non mi fa escludere che lui possa avere dei valori sagittariani sicuramente l'ottimismo sicuramente anche quella buona dose di presunzione che l'ho sempre caratterizzato visto anche il sole congiunto a Giove anche un po' no presunzioso certo beh sì una persona che potrebbe essere descritta proprio in questi termini d'altronde anche il sole sia pure in modo largo però insomma è congiunto a Giove ha influssi genitali è valorizzato da Giove e questo caratterizza anche un uomo di successo cioè una persona una personalità che potremmo definire vincente tra virgolette Ciro Discepolo ci ha insegnato che le congiunzioni in astrologia hanno un valore importantissimo enorme ed è molto interessante questa congiunzione tra Venere e Saturno assolutamente io so che ho letto qualcosa so che lui ha avuto una vita sentimentale molto ricca e travagliata molto complessa al contrario di Michelangelo ma guarda infatti ti dico subito due cose al volo perché poi dobbiamo dire un sacco di cose in un tempo non infinito ma intanto ti mostro questa il ritratto di questa donna di questa fanciulla molto carina dallo sguardo molto volitivo che è stata una grande scultrice una grande scultrice Camille Clodelle è stata la sua poi di fatto amante lui l'ha conosciuta intorno alla metà degli anni 80 dell'ottocento è arrivata nel suo atelier dopo una serie di peripezie lei molto volitivamente ha perseguito la strada della scultura ed è diventata poi sua allieva e poi sua amante essendo lui un uomo convivente da tempo con anche dei figli e lì nasce una storia d'amore di quelle terribili di quelle dove lei è l'amante che implora di avere Rodin tutto per sé è gelosa è anche ispirata ma è anche ispiratrice di Rodin e questo amore finisce poi in tragedia perché lei alla fine impazzisce finisce internata in manicomio ma anche per l'ostilità della sua famiglia per l'ostilità della famiglia di lei già al fatto che volesse intraprendere l'attività di scultrice e poi al fatto che vivesse una vita così scandalosa su camille claudelle con una venere in opposizione alla luna con una venere strettamente congiunta a Saturno certo tra l'altro abbiamo anche il tema natale di camille claudelle tra l'altro volendo ma sì poi perché per lo stesso motivo che dicevo che abbiamo il tema natale di Rodin ma tra l'altro forse ho anche volevo far vedere soltanto una scultura di camille claudelle che è questa frammento di figura reclinata e qui non si capisce dove finisce Rodin e dove inizia claudelle perché c'è un'affinità stilistica fra i due che è veramente sorprendente e lei è una di mostro questa scultura per farvi capire il grande talento di quest'artista e invito gli interessati magari poi faremo anche una lezione su claudelle però veramente c'è una uscita recentemente negli anni passati una bella biografia sul camille claudelle voluminosa dove si rende giustamente onore a questa grande artista che è stata di fatto allieva amante compagna forse anche ispiratrice musa di Rodin e forse tra due c'è stato un grande scambio artistico di idee di io ci vedo del tormento in questa in questa opera molto sì in lei a differenza di Rodin dove c'è sempre c'è una vitalità però più prorompente nelle sue sculture le opere di claudelle sono più emozionali e trasmettono un'inquietudine maggiore un senso di tormento diverso e guarda la vita poi amorosa di Gauguin tu pensa che lui si sposa dopo 53 anni di convivenza in vecchiaia poco prima di morire a 77 anni quindi diciamo sì sì lui c'è una vita veramente sentimentale complessa infatti guarda vedi venere e saturno è quadrata questa quadratura a in ottava e anche quadrata urano e qui si crea questo triangolo Marte urano ottava undicesima eccetera che parla di tutta la complessità di questa vita sessuale sentimentale molto molto turbolenta in pieta ma tutta la sua energia è veramente concentrata sull'arte sulla scultura perché poi vediamo questo questa culminazione di valori in un settore che che soprattutto riguarda l'affermazione personale viene sempre il sospetto in questi personaggi che alla fine siano come un centro gravitazionale intorno a cui ruotano altre figure che magari servono fanno da ispirazione ma contro il quale poi queste figure si schiacciano collassano si schiantano mi viene sempre in mente anche quando vedo il tema natale di picasso mi viene in mente qualcosa del genere no quindi abbiamo una personalità enorme tra l'altro una personalità che ha valori di fuoco valori d'acqua una personalità molto ricca tra l'altro in uno scultore notiamo i valori Marte Saturno anche perché venere la parte estetica è congiunta a Saturno ed è inquadrata con Marte in vergine quindi ci sono molti valori terrei questo Marte in vergine e molti valori anche Saturno congiunto a venere la manualità la cura per il dettaglio e anche proprio questa secondo me spesso questi aspetti di tensione vengono proprio compensati con la creatività c'è questa spinta a voler super compensare questo questo deficit che sente chi ha una disarmonia con invece l'azione riempire con l'azione questo vuoto questo bisogno questo questo o anche questo eccesso scaricarlo a volte perché perché a volte sì le disarmonie sono eccesso o carenza di qualcosa in entrambi i casi scatta l'azione o se vuoi scaricare o se vuoi invece riempire e quindi e quindi cosa c'entra Michelangelo? Beh intanto abbiamo visto che Michelangelo è una grande fonte di ispirazione di Rodin abbiamo visto il tema di Rodin ci siamo fatti un'idea del personaggio sì Michelangelo c'entra parecchio perché intanto abbiamo visto che è una fonte di ispirazione assoluta in un'epoca in cui Michelangelo diciamo non è la prima scelta tra gli scultori specialmente nell'ambito dell'accademia sono altri modelli che si perseguono Michelangelo scolpisce uomini nudi tormentati siamo molto lontani abbiamo il tema natale di Michelangelo sì lo abbiamo lo abbiamo grazie a suo padre che ci scrive nel suo diario personale quindi meglio del registro anagrafico nel diario di personale scrive che il giorno tot 6 marzo 1474 lui lo annota alla fiorentina scrivendo gli anni contando gli anni a partire dal 21 marzo quindi a Firenze fino a un certo fino a settecento gli anni si contavano con il calendario dell'avvento dell'incarnazione quindi praticamente dell'annunciazione quindi il giorno dell'annunciazione quindi della fecondazione di Maria diciamo così veniva 25 marzo veniva fatto iniziare l'anno e poi il 25 dicembre è Natale quindi nove mesi dopo eh quindi quindi il 6 marzo era per loro il 74 ma per noi sappiamo già che il 75 era iniziato quindi 6 marzo del 75 e lui dice mi nacque di notte qua tre quattro ore innanzi quindi tre quattro ore prima che sorgesse il sole sì allora calcolando più o meno stimando tre quattro ore prima del sorgere del sole si può arrivare a una nascita tra l'uno e 45 e anche volendo io ho anche un'altra ipotesi le due e venti cosa cambia abbiamo un ascendente in sagittario o un ascendente in capricorno a seconda il carattere mi risuona di più per via del fatto che fosse un artista i valori di seconda casa mi risuonano di più però vabbè beh intanto mettiamo una foto di Michelangelo anche per rendere onore al maestro diciamo Michelangelo è un pesci qui viene raffigurato proprio con quell'aria malinconica un po' pescina dal suo allievo Daniele da Volterra ieri abbiamo parlato e lo ascolterete domani di una chicca che riguarda Michelangelo è un'altra figura di scultore che Pietro Torrigiani anzi l'avrete già ascoltato quando vedrete questo video quindi probabilmente se non se non mi ricordo male la scansione però in ogni caso Michelangelo è legato il Roden è molto legato alla figura di Michelangelo Michelangelo si ha questi caratteri pesci chiaramente evidenti nel suo trasporto religioso nelle sue inquietudini personali ha anche dei valori difficili lui era un uomo molto burbero e scontroso e si parla di lui come di un misantropo fondamentalmente il che con un ascendente in capricorno non ci starebbe male non ci starebbe male poi anche il sole congiunta a Marte in pesci c'è l'opposizione anche sì sì abbiamo una serie di posizioni che che sono interessanti per esempio quel quei valori di seconda di cui parli io sono convinto che quel sole lì si può tranquillamente trovare magari in cuspide con la terza per un fatto sì in cuspide per un fatto Michelangelo ha scritto tantissimo oltre alle lettere che sediamo ha scritto una grande quantità di sonetti di poesie di rime era un lettore di Dante molto appassionato quindi era un uomo anche che amava le lettere pur non avendo avuto una formazione letteraria quindi questo mi fa pensare a qualche valore di terza pur non così accentuato poi valori toro ci sono tutti questo stellium con anche la luna in seconda e tanti valori pesci anche tra l'altro è interessante vedere in Michelangelo il trigono bellissimo che si forma tra Saturno Nettuno e Marte c'è questo triangolo bellissimo d'acqua praticamente dove Saturno Marte no c'è l'arte della scultura praticamente sono tutti applicati ai valori della sensibilità sia perché è un trigono d'acqua sia perché Nettuno è scorpione quindi sensibilità tormento inquietudine tant'è appunto che il film famoso con Charlton Heston dedicato a Michelangelo si chiamava proprio il tormento e l'estasi basato sul romanzo poi che era stato scritto e Michelangelo è un po' questo il tormento l'estasi lo spirito la ricerca del bello ma è anche la ricerca del bello e Michelangelo è anche una ricerca del vero o una ricerca anche della salvezza poi a un certo punto beh una cosa interessante è che tra Rodin e Michelangelo ci sono affinità stilistiche che continuano nel tempo perché quando poi lui tiene Rodin ottiene la commissione per la porta dell'inferno che doveva essere la porta per il museo di arti decorative mai realizzato Rodin ottiene un incarico nell'ottanta ci lavora per tutto il resto della sua vita e realizza una serie di sculture di cui la più celebre il pensatore che deve stare al centro della porta in cima e la porta dell'inferno doveva fare da ideale pandan con un'altra porta celebre realizzata però nel 400 da Lorenzo Ghiberti e gli esperti di arte sanno quanto siano importanti queste opere del Ghiberti che è la porta est del Battistero di Firenze questa porta in bronzo è una porta che ha visto all'opera non solo Ghiberti ma anche sui figli e anche altri massimi scultori fiorentini pare anche Donatello quindi è un'opera molto importante ed è un'opera scultoria realizzata in uno stile innovativo perché è fatta con pannelli quadrati quando all'epoca si usavano nel Medioevo pannelli dalle forme più geometriche e sono pannelli nei quali Ghiberti crea delle storie meravigliosamente caratterizzate storie del storie tratte dalla Bibbia fondamentalmente dalla vita di Gesù e così via questa porta meravigliosa è la porta del paradiso chiamata così perché la porta aurea la porta principale d'accesso al Battistero ed è una porta anche simbolicamente parla di temi della salvezza alla fine la porta dell'inferno per Rodè nel contraltare di questa porta laddove laddove già Ghiberti aveva allargato i pannelli Rodè li fa completamente sparire le porte in bronzo sono ricoperte di una massa di figure fluttuanti fondamentale sì una massa di figure fluttuanti che cascano che precipitano all'inferno che è un inferno dantesco questa porta non è altro che una visione dell'inferno simultanea che Dante sotto forma del pensatore la celebre statua di Rodè in cima sta contemplando il pensatore è Dante praticamente ma l'artista stesso si medesca nel pensatore ora Michelangelo è stato un grande ammiratore di Dante un grande amante di Dante della sua della commedia e anche scritto versi in uno stile dantesco pure ma allo stesso tempo questo pensatore che qui troviamo in cima alla porta e alla porta dell'inferno è in realtà una citazione sempre da Michelangelo e cioè una citazione dalle tombe mi dice ecco il pensatore di Rodè proviene proprio vorrei trovarvi una foto del pensatore per farvela vedere meglio eccola il pensatore viene proprio è un modello ispirato alle tombe mi dice laddove però Rodè lo ripiega tutto su se stesso e tutto nel suo cervello il corpo e la mente sono diventati un tutt'uno come se tutto il corpo fosse cercasse di ripiegarsi di rientrare nella mente come se più introspezione questa è una statua invece un allegoria di Lorenzo dei Medici un allegoria perché Michelangelo non lo ritrae ma lo rappresenta in modo allegorico e sotto forma di uomo pensoso e malinconico quindi un genio fondamentalmente e qui invece il pensatore è una figura ugualmente malinconica ma ripiegata su se stessa ed è nuda ma non solo questo brulicare di figure fluttuanti che noi vediamo da dove viene viene dal giudizio universale di Michelangelo questo questa forma del giudizio che Michelangelo dipinse completamente destrutturata cioè priva di margini di organizzazione ma dove le figure fluiscono dal basso verso l'alto e precipitano anche all'inferno questo questo brulicare fluttuare viene ripreso da Rodin chiave moderno ovviamente questo caos visivo viene ripreso da Rodin nella sua nella sua porta dell'inferno allora alla sono molte a sconsonanze sembrazioni che su cui risuonano entrambi esatto esatto chiaramente Rodin è in cui è un moderno e inquieto e tormentato ma allo stesso tempo ci mette un'energia della modernità infatti si sofferma sull'inferno invece Michelangelo qui si interroga sulla salvezza problema di Michelangelo è potremo farcela salvarci nel giorno del giudizio Rodin invece è un moderno si osserva l'inferno si preoccupa di l'impietudine di questo tormento dell'anima ma non si avvede non si interessa della salvezza c'è proprio una differenza vabbè che è dettata dai secoli e delle differenti epoche ma la cosa formidabile se guardiamo le sinastrie perché a questo punto dici quando c'è tanto rispondenza noi astrologi poi cerchiamo e guardiamo diciamo c'è una sinastria fra questi due temi natali beh lascio giudicare a voi vi faccio vedere una griglia di sinastria così in chiusura dove vediamo orizzontalmente i pianeti di Michelangelo ovviamente e verticalmente quelli di Rodin se ci soffermiamo sull'essenziale della sinastria cioè gli aspetti fra i luminari gli aspetti fra venere e marte ci fermiamo solo lì ne vediamo delle le due lune sono in trigono il sole di il sole di Michelangelo è inquadrato alla luna di Rodin e intrigono al sole di Rodin quindi già tra i luminari c'è già qualcosa le due veneri sono in trigono le loro estetiche esattamente quindi le due veneri sono entrambe in in segni affini in segni dello stesso elemento fondamentalmente marte e venere sono in aspetto marte di Rodin di Michelangelo quadra venere di Rodin e si oppone a una quadratura perfetta quasi a zero è l'aspetto più forte cioè è l'aspetto veramente più forte è un aspetto che quando c'è una coppia sentimentale amorosa fa dire beh c'è una grande intesa anche fisica o comunque una un'attrazione una forza che unisce due persone ma qui c'è un'intesa sul quando la sinastria riguarda la sfera creativa professionale è una forte intesa di intenti la forza l'energia di Michelangelo influenza la creatività influenza la creatività di Rodin poi certo si potrebbe dire sì però è una quadratura disarmonica ma nelle sinastrie non sempre ci dobbiamo preoccupare troppo del fatto dell'armonia disarmonia di un aspetto quanto della forza di un aspetto quanto della significanza dei pianeti coinvolti cioè preoccuparci se l'aspetto armonico e disarmonico francamente anche un po' ozioso perché l'esperienza mostra che comunque anche un aspetto disarmonico per esempio venere marte produce interesse attrazione produce qualcosa di trasformativo nella relazione di entrambi e mi sono fermato solo qui poi potremmo vedere anche il Saturno di Michelangelo trigono al sole di di Rodin potremmo continuare il Saturno di Rodin quadrato al sole di Michelangelo c'è anche queste corrispondenze Saturno sole di entrambi sono veramente veramente degli aspetti che comunque anche diciamo se non sono proprio allo zero gradi come quella con tre gradi il trigono Saturno sole abbiamo degli aspetti abbastanza stretti che hanno un senso hanno un significato certo 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 sono sono molto interessanti guarda anche la congiunzione sia pur larga tra urano e sole di andiamo sui generazionali questi sono meno rilevanti francamente in sinastria però è solo una curiosità la 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 il 13 no no sole e urano congiunta Nettuno c'è un sole congiunta Nettuno sì 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 c'è un sole congiunta Nettuno un sole congiunta urano e qui abbiamo poi la corrispondenza urano sole tra Michelangelo e Rodin e urano sole tra Rodin e Michelangelo praticamente cioè sono sono degli incroci incredibili c'è una grande densità relazionale fra queste due persone e ovviamente tu come ti relazioni cosa ti attrae di un arti come ti relazioni un artista morto da secoli attraverso la sua opera e quell'opera che i segni di quell'artista e ti risuona dentro Michele io poi ho scorto anche altre similitudini all'interno di queste di questa sinastria vuoi che mostri due grafici affiancati e magari volentieri eccoli cioè entrambi hanno un aspetto di tensione sole Marte assolutamente un aspetto positivo uno il sole Michelangelo sole congiunta a Marte Rodin invece il sole esistente a Marte quindi tutte e due interessati a qualcosa di fisico si energico una lotta proprio con la materia eh esattamente di lotta proprio con la materia e poi un'altra cosa che sta a significare la disciplina magari uno rispettava la disciplina nell'altro cioè la luna in aspetto dissonante a Saturno certo certo che si manifesta e poi cosa molto molto interessante il gusto sì perché entrambi hanno Mercurio in buon aspetto a Venere certo certo è vero ci sono assonanze luna Saturno aspetti luna Saturno aspetti Mercurio Venere certo ci sono delle affinità molto interessanti ma quel Mercurio è anche un elemento proprio un'estetica che ha anche una dimensione concettuale al suo interno le le opere di questi uomini non rappresentano le cose che si vedono solamente ma rappresentano anche quello che si sente sono il precipitato di pensieri e di sensazioni di elaborazioni di questa esperienza che fanno del mondo e delle proprie emozioni anche quindi c'è Venere c'è Mercurio c'è il pensiero c'è l'emozione il sentire è una cosa spettacolare il fatto che l'arte sia più di quel che rappresenta che sotto ci sia qualcosa altro esattamente come è un'arte l'interpretazione del tema di nascita sotto ancora più in profondità dei simboli astrologici si nasconde veramente una complessità che è un'arte veramente riuscire a interpretare esattamente il nostro tempo è finito quindi dobbiamo salutare chi ci sta ascoltando mi dispiace è stata una lezione veramente bellissima complimenti Michele vediamo se grazie a te per il contributo grazie a te veramente grazie a tehn